oh mamma il telefono pronta qui è gigio che parla e di là chi parla gigio mi dici e dopo carosello tutti a nana mi simiota ma cosa mi dici mai se non me la dici non vado a nana e va bene e dopo carosello tutti a nana adesso mi dici adesso non ti dico niente ti dico buonanotte ciao salutami la mamma ciao mamma chi è? posta grazie no 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 oggi non mi va di leggere te la leggo io chi ha parlato dove sei? voce ma qui in casa mia ciao bimbo me la leggi per favore? dammela accipicchia non si può gnocco aspetta oh ecco caro gigio è vero che devi fare una corsa in america in automobile? ciao liliana verissimo mi sto allenando forte per vincere adesso faccio vedere la mia macchinetta a due cavalli e quattro cilindri ecco la mia fuori serie adesso la provo accensione motore? cilindri accelerare mamma niente paura è il freno è un po' giù di giri la mia quattro cilindri poverina ma vincerò lo stesso la gara a piedi gigio ancora tu? ma che vuoi? gigio mi dici chiare sono? è sempre l'ora dei pavesini ho comprato i pavesini e sono contento eh certo per arrivare quassù ci vuole piatto gambe e pavesini è laggiù aspettate che vi mando l'ascensore tenetevi su con i pavesini sono tanta nuova energia è sempre l'ora dei pavesini è sempre l'ora dei pavesini